Negli anni se ne sono visti parecchi, sono apparsi e scomparsi, si sono susseguiti con cadenza regolare, soprattutto nel periodo estivo hanno fatto strage. Parliamo degli autovelox sulla SS18, i tutor tra Belvedere Marittimo e Diamante sono nell'occhio del ciclone. Come spesso accade, i primi mesi sono quelli in cui si registrano più multe. Basti vedere cosa è successo a Praia Mare con il semaforo di via Cristoforo Colombo per tirare un po' le somme. Insomma, laddove appaiono i sistemi di controllo del traffico non perdonano, almeno all'inizio, poi la psicosi rende tutti bravi automobilisti. Al di là di tutto, sulla questione autovelox è intervenuto anche il coordinatore di IDM Scalea, Antonio Pappaterra. Il movimento è pronto a sostenere gli automobilisti vessati, perché se è vero che non ci sono dubbi sugli adempimenti di legge effettuati dai comuni proprietari di rilevatori di velocità, bisogna però tener conto che sono state inviate multe per eccesso di velocità di 2 o 3 km orari rispetto ai limiti. Per Pappaterra i sindaci dovrebbero togliere questi autovelox fasulli, altrimenti ci faremo promotori di un'iniziativa che tuteli i cittadini da questa farsa legalizzata. Secondo il coordinatore locale d'Italia del Meridione c'è anche una questione morale da non sottovalutare. E' vergognoso da parte di chi attua questi strumenti, mortificava ancora di più i cittadini con multe fatte da autovelox tarati senza tolleranza chilometrica di 5 km orari in tratti stradali dove ogni 10 metri cambia il limite di velocità. La litoranea tirrenica, scrive Pappaterra, è una panacea di segnaletica strambalata e di incongruenze. Questi sistemi non fanno altro che aumentare la sfiducia dei cittadini verso istituzioni che dovrebbero garantire, oltre che la legge, un minimo di giustizia sociale. Con la scusa di incentivare la sicurezza stradale, in realtà non si attuano misure infrastrutturali atte a garantire la sicurezza stessa della viabilità e gli esempi degli obrobri autorizzati dall'ANAS sono evidenti sulla costa, ad iniziare dallo svincolo del santuario di Paola alle rotatorie di Grisolia.